E' un video davvero aberrante, devastante, assurdo, triste di una grandissima maleducazione, quello che si vede e che è presente nel web, che è diventato virale in poco tempo, dove per l'appunto viene a verificarsi un maltrattamento gratuito nei confronti di due gattini di tre mesi di età. Nel filmato infatti in questione si vedono alcuni ragazzi ubriachi, probabilmente che bevono alcolici, fumo sigarette, i giovani si divertono a maltrattare due gatti, non del tutto adulti, costringendo uno degli animali anche a diriffuttura a fumare una sigaretta accesa, introducendo ora con la forza all'interno della sua povera bocca. I libri che il denuncio era accaduto sono stati alcuni esponenti del partito animalista della Spagna, che si chiama PACMA. Dopo la querella, la guardia civile ha deciso di aprire un'indagine e da risalita i presunti responsabili sarebbero alcuni ragazzi residenti a El Eilo, Almerina, Andalusia, due di loro sono stati anche già denunciati per maltrattamento di animali, i due gatti sono stati recuperati, affidati ad una struttura veterinaria, le condizioni di salute sono buone, non è escluso che nelle prossime ore possono però arrivare anche delle denunce nei confronti di altri giovani che si sono messi nella condizione di fare del male agli animali in questione. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, cari utenti di YouTube, iscrivetevi, seguitevi a commentare, un saluto Carlo D'Andro, Arias, dal vostro narratore italiano di YouTube.